del volume adesso ho alzato il volume si sente allora stavo dicendo sto facendo questo video per voi per tutti i ragazzi che mi seguono cercando ando anche a quello a quello che dico per cui vi ringrazio tantissimo tenuto lo tengo alzato sono poi non si sente quello che dico e niente vabbè mando un bacione a tutti e con questo ci vediamo alla prossima mi raccomando fate